Benvenuti alla dimora del terrore Un bigliettino che avevo preso C'era una serie di numeri Poi vi farò vedere Intanto blocchiamo la porta Perché siamo ripartiti in questo ripilante punto E adesso voglio Adesso dobbiamo chidare il cane Adesso lo aspetto al varco Lo aspetto Dai ti sto aspettando bestia Ti sto aspettando Ti aspetto al varco io Vai Scusate se da qualche scatto è che è full size E tutto E webcam Ho levato la preamplificazione Non so come mi si sente Sta arrivando Sta arrivando Oh mio dio Da notare la tecnica Con cui sfondo Dai che Adesso ti killo Ti killo Adesso ti uccido Ti uccido Mi ha fottuto Mi ha fottuto Mi ha fottuto Mi ha levato il barile di sotto Aiuto Vieni dai vai 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 Io sono Rambo Non puoi uccidermi Non puoi killarmi Non puoi killarmi Non posso morire contro un cane Vai Vai ma Ma è intangibile È un cane intangibile Ma La morte È un terreno inesplorato Ma mi stai trollando Ma troll Non mi state trollando oggi Mi sta trollando pure la scritta della morte Caricati Sono bloccato sul pontino Allora Adesso Dov'è il barile? Oh Wow Wow Il barile? Ah eccolo Oddio sono fuori Io Cacchio Ma che cosa contiamo Adesso Danato spawn Tutto baggoso Dai adesso ti aspetto al barco Veramente dai Ti aspetto al barco Spero mi si veda bene Aspettate Ok Dai adesso ti killo dai Sfonda Sfonda bestia No me l'ha aperta in faccia Maledizione Vai attacca Mi sta ammazzando di nuovo Mi sta ammazzandomi di nuovo Attenzione Attenzione Sto molendo Dove sto molendo Serve l'antibiotico Vai vai Metti Oddio ma non è in pausa Non è come amnesia Ma è inizione Vai Adesso ti uccido Non fai più tanto il duro Muori E scappa sta bestia Dai adesso ti Muori Non fai più il duro adesso Non fai più il gradasso Vai 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 Ti sto killando Vai baccati pure sul muro Vai basta che muori Per me Non fai più il gradasso Adesso Chi è il più forte Che odio sei ancora tu il più forte Ah no Ok Bastardo Scusate la bestia Non l'ho bloccata in tempo Lanterna di amnesia Ti devo prendere Non mi state trollando oggi Stanno trollando Prendo tutto cugina Guarda Andiamo Con la lanterna di amnesia Andiamo Allora Vediamo un po' qui cosa c'è Allora Qui c'era il barilotto Quindi torniamo indietro Con la lanterna di amnesia Andiamo Vai via L'ho buttata a terra Che così Corro più velocemente Questa è Eh sì ok Ecco guardate Guardate 2 1 4 E 8 E il contrario Quindi 8 4 2 1 1 2 8 4 1 2 8 4 1 2 8 4 1 2 8 4 1 2 8 4 1 2 8 4 1 2 1 1 2 1 Oddio no Perché ho sbloccato sto enigma Oh my gosh Oddio che brutto posto Oddio come and- Potrebbe essere soltanto un riflesso Più semplicemente la mia migliazione Ma sotto quelle rocce c'è qualcosa che attira la mia attenzione Cosa c'è cocaina di ma che cavolo vuoi Che cavolo la neve certo Te sei rifugiato qua sotto apposta Ma 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 io non lo capisco questo personaggio Vediamo qua Si gira qua No non si gira No non si gira No non si gira Andiamo così Oh salvare 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 Scusate i capelli sempre scenici come al solito Un clero raccolto un razzetto Un clero raccolto un razzetto Un clero raccolto un razzetto Non posso tipo infilarmi lì su per Eeeh Eeeh E volare via da sto posto Quanto pare no Non posso prendere la sega nastro Montarla sul martello Non sto facendo troppe ipotesi scritte oggi Cosa sono delle palle ma siamo Cosa sono delle palle Minecraft cos'è Vediamo Vediamo Oh mio dio Oh mio dio Che scenario No Oh mio dio Scenario lugubre Oh my gosh Sti flash improvvisi No no ragazzi No io non ce la faccio Io non ce la faccio Io non ce la faccio Non ce la faccio Questi si rompono ma non li rompo ora Allora Oddio 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 Questa elettrica Questa elettrica mi sa eh Questa elettrica Non la ne voglio nemmeno sfiorare Vediamo Fammela analizzare Una recensione elettrica creata di recente Meglio trovare il modo di andare avanti Molto interessante Eh siamo tornati dove eravamo prima Ebbè Ebbè Che cacchio devo fare Allora Questa è una recensione Ricapitolandola Aia No Non è che posso saltarla Siamo sicuri No a quanto pare no Mi serve una trave Qualsiasi cosa Che ci sia qua in giro Per scavalcarla Cassa Vieni con me Ma 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 come Ma mi state trollando Ogni volta di più Ma ci provo l'ultima volta E mangio Ma se no eh Tornando indietro per lungo Ma no scusate Non mi è rimasto in testa Allora questo che cos'è? Un buco Dio Dio ancora ragnate Spero che quel buco esistesse Da prima che i ragni Dei ragni E non viceversa Incoraggiante Devo passare di là No Torniamo indietro Torniamo indietro E mi sbatto la porta in faccia Che ci sia qualcosa qua sotto Ma come stanno stati Sassi di Oh Cosa c'è qua? Piccone Pirma le pali Adesso il piccone Cosa vogliono trasformare? Penumbra in una versione horror Di minecraft Cosa mi serve Sto piccone Devo rompere le rocce No Non mi sembra Tra l'altro Poi tipo Ha il piccone lunghissimo Il manico cortissimo Sembra Poi non lo so Eh magari è lungo Allora sta a fare Che è Si può girare No A quanto fare no Girati No non si può Qua Tutto l'occorrente Che serve per diventare Un buon pannellname Ah però Che ambizioni Che hanno su penumbra È un lavoro proprio Ambizioso Allora Vi salviamo Che è sempre utile Aiutami Mi sto abituando Oramai Non mi ci butterò Mai mai più Ce l'ha scritto Una roba del genere Tipo Massima giopa No Sì ma Devo passare in sto buco Io no Devo rompere sta trava Ma sì che devo rompere sta trava Dove devo andare Se no Eh no Non devo neanche rompere Ma Travi che mi trollano Tutto mi sta trollando Oggi non so cosa dire Poi ho col martello Ah no Inutile Non è inutile Non è inutile da fare Vai Continuo Qui no no Però qui Non è che Cos'è di amnesia Vieni con me Dai vai Vieni No Ma Ma che Ma 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 ci mettete voi Eh Allora scusate ragazzi Il video è un po' monotono Flur Poi mi ostino a chiamarli Flur Dai video che vedo Anche se non si chiamerà Ma c'è una trave qui Sì Ma ma Agni Ma Ditemelo prima Che ditemelo prima E no 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 Mi state trollando Tutto Mi sta trollando Oggi Quanto mi piace dire Trollando Ma Ma Ah è vero Non si possono girare Qui gli oggetti Come faccio adesso Dai Dai Stai Stai in equilibrio Stai Parkour assurdo Ma sono passato Sono passato Attenzione Pulminandomi Le chiappe Sono passato Allora Vediamo un po' Cosa c'è In questo bel edificio Esplosivi Ah Questo è abbastanza chiaro E ok Anche del resto Era chiaro Siete un imbecille Completo Cosa devo fare Guardate che maestria Sfondando le porte Alla minecraft Allora Vediamo Ula 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 Che cos'è qua Antidolorifico Sì è un antidolorifico Sembra una bomba di carta Fatta a mano Sposirmi Non forse hanno preso Troppo umidità Assassin's Creed Rivelator No scusate Vediamo U che cos'è Oh mio dio La dinamite Attenzione La dinamite Mi sembra sempre più Minecraft Questo gioco Ci manca solo Che sono tanti pezzi E si chiama TNT Dinamite Sembra Non sia grande Allora qui Perché non si rompe Perfetto Non ti preoccupare Lo spacchiamo Non c'è problema Col piccone Lo rompiamo U cosa c'è Povero Da sparo asciutta Ecco quello che mi serve Perfetto Ok Ok Quindi Me la fai prendere Ah ci devo usare La dinamite No 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 Non ci uso La dinamite Devo usare La hexabuckstrina Qua come si chiama Ok concentriamoci Ma come concentriamoci Sei tu unib Non dovrò mica Avere un baratto De robe simili Spero l'accendino Dai no Che così esplodiamo Saltiamo in aria No Serve un baratto Ragazzi Serve un baratto Questo significa Che dobbiamo Tornare indietro Il lucchetto Dai ma cosa sto facendo Non lo so neanche io Sei un imbecile Cosa sto facendo No Non ci siamo Puoi avere la spazio Questa cosa che mi serve Prendila No Non ci riesce Allora Questo è un sasso Che dobbiamo tipo Tirarci O innescare Una specie di reazione Nucleare No No Non devo 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 Dynamite Niente di interessante Qui Cioè forse ragazzi Mi si sentirà un po' In ritardo Quel microfono Non in ritardo Di voce In confronto al video Intendo Cioè tipo Trovo la bomba E lo dico dopo Ha una bomba Non so Perché Sono il difetto Di webcam Poi io Non sono mai Professionale Dei miei video Quindi non mi sto A editare A parare L'audio Ok ragazzi Non ve lo aspettavo Attenzione Menando la polvere Da sparo Dai Innescati Innescati Fammi morire Datti una picconata In testa Non so cosa fare Io datti una picconata In testa Falla finita Con questo schifo Di vita No scusa Sono poi Stonato Come una Come una merda Esplosiva Che cazzo sto dicendo Scusate mio fratello Stupido Se lo sentite parlare Che qua Gli dico sempre Non parlate nei video Ma è talmente piccolo E rincoglionito Che parla Questa batteria alimenta L'ho chiusa Ma vai così Adesso Posso riaccenderla Vero No Oh mio dio Questa è una batteria Questa qui mi serve a qualcosa Non potete dirmi Che non è utile Ma Ma mi state trollando Cosa cazzo devo fare Mi avete dato Ma ci sarà qualcosa Da usare Ci sarà un motivo Perché posso staccarlo Ho capito Che è quello che mi serve Ma dispiegami Come minchia Prenderla No Oddio Siamo già A 15 minuti Sì Vabbè Vabbè ragazzi Il video di Penumbra Finisce qui Ci sentiamo Nella prossima Oddio Perse le parole Ci sentiamo Nel prossimo gameplay Di Penumbra Overture Guarderò una guida O capirò come fare Bella Hey là Spero che il video Ti sia piaciuto Non fare il tip Se l'hai gradito Mettimi un bel mi piace Ricordati di commentare Ma soprattutto Iscriviti al canale Se lo farai Ti spetteranno Grandissime esclusive Di spettacolari video horror E molte altre cose Al prossimo gameplay Si spera